Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di Frate Minore Cappuccino. Questo è il titolo della nostra rubrica, come ogni martedì. E quest'oggi è qui con noi Don Francesco Armenti. Ben trovato Don Francesco. Ciao Francesco, ciao a voi, ben ritrovati. Beh, qualcuno mi ritrova troppo spesso. Tutti i giorni, tutte le mattine. Quindi non è una novità. Da passi di tenerezza ti ritrovi in Fra Daniele adesso. Eh beh, diciamo che un po' le figure che richiamano quella santità ordinaria di cui parlava Giovanni Paolo II, una santità che può essere riconosciuta e quindi canonizzata o meno dalla Chiesa, no? Poiché i santi sono tanti, tantissimi. Non sono solo quelli che la Chiesa giustamente riconosce e indica come modelli. Però i santi sono proprio dei passi di tenerezza, anche se a volte quando ti imbatti nella vita di un santo, nella cosiddetta ageografia, no? La storia dei santi, la vita dei santi, ti puoi imbattere anche in momenti duri, di, diciamo, di fatica. Ma la tenerezza non vuol dire essere mielosi. Tenerezza vuol dire essere sospinti dall'amore. E allora i santi, riconosciuti o meno, ripeto, sono un po' questa storia di tenerezza, non dell'uomo verso Dio, ma di Dio verso l'uomo. E poi quest'uomo chiaramente esprime questo amore, contagia di questo amore, perché l'amore è di per sé, tra virgolette, contagioso, come diceva Sant'Ommaso, e quindi esprime la tenerezza verso gli altri. Quindi diciamo che, tutto sommato, è uno speciale di passi di tenerezza. Uno speciale. E allora spieghiamo ai nostri amici come mai anche Don Francesco con Fra Daniele. Beh, perché tu fai parte dell'ufficio della postulazione, come ben sapete, cari amici, è stato nominato vice postulatore Fra Mariano Di Vito, che è il presidente della Fondazione Voce di Padre Pio, il presidente di Teleradio Padre Pio, il direttore della Voce di Padre Pio, e tu collabori all'interno dell'ufficio di postulazione, ricordiamo il postulatore generale, quindi, ecco, padre Mariano è il vice postulatore di questa causa. A che punto siamo? Beh, diciamo che siamo nella prima fase, cioè ormai il postulatore generale, perché un po' gli ordini religiosi, le congregazioni, gli istituti, agiscono attraverso un postulatore generale, poi dei vice postulatori, laddove il postulatore non può essere presente, quindi non può, e si è proposto, si è presentato al vescovo diocesano, quindi in questo caso il vescovo di Manfredonia, il vescovo di Manfredonia di San Giovanni Rotondo, il cosiddetto libello. Il cos'è libello? È una lettera, un petizio, in cui il postulatore chiede al vescovo di avviare l'inchiesta diocesana. L'inchiesta diocesana che è avviata attenzione non dal postulatore, ma è il vescovo diocesano, è l'ordinario della diocesi, dove di per sé è morto il candidato, oppure per altri motivi molte volte si sposta in altre diocesi, e quindi qui il vescovo, una volta che ha appurato la cosiddetta fama di santità, cioè che ci sono degli elementi, il cosiddetto fumus sanctitatis, cioè tu devi essere capace di subdorare, che ci sono degli elementi che possono portare alla canonizzazione questo candidato, dopo aver fatto un po' tutte le sue varie indagini, aver visto anche la documentazione allegata, perché nella richiesta si presenta una relazione cronologica quando non vi è una biografia documentata, si presentano un po' per esempio anche l'elenco dei testimoni, poiché su Fred Daniele siamo in una causa recente, cioè Fred Daniele è morto nel 1994, quindi siamo in una causa recente e non storica. Il vescovo poi, una volta che si è convinto, dovrà portare la cosa alla conferenza episcopale della regione, darà nel cosiddetto ok, il cosiddetto nulla osta, poi chiederà l'altro nulla osta a Roma, alla congregazione, non nel senso che lui deve essere autorizzato a procedere, ma nel senso che vuole chiedere se ci sono degli impedimenti. Una volta che è arrivato tutto questo, allora di per sé il candidato viene, già di per sé tutti siamo servi di Dio, però ufficialmente diventa servo di Dio, quindi poi si deve insediare il Tribunale Diocesano, tutte le commissione storiche, siamo agli inizi e è importante dare questi segni ed è anche doveroso precisare che l'inizio di un'inchiesta diocesana che è finalizzata ad accertare in questo caso le virtù eroiche vissute dal candidato, non è detto che poi necessariamente porti alla canonizzazione, è un'inchiesta appunto, in itinere, andando avanti, ecco, se il Signore sempre vuole, perché la santità, sia quella tra virgolette non canonizzata, sia la santità che poi la Chiesa canonizza, cioè include nel canone, è una santità che alla fine non dipende da noi uomini, ma dipende da Dio, cioè se Dio vuole che una persona venga riconosciuta santa, la Chiesa certamente non si sottrarrà. Se poi ci sono altri misteri di Dio, restiamo nei misteri di Dio. Bene, Don Francesco, tu non lo hai conosciuto, Fra Daniele, però... È come se lo avessi conosciuto. Hai studiato, hai incontrato persone, anche nel tuo testo, come seme marcito, lo hai già da tempo indicato tra i diversi, ecco, l'espressione semi di santità. Sì, guarda, chi ha avuto la colpa, tra virgolette, di farmi innamorare di questo frate, di questa figura, è stato il nostro ex presidente, attuale ministro provinciale, Fra Francesco... Daniele Colacelli. Daniele Colacelli, il quale mi ha raccontato tutta la storia. Quindi mi raccontava sempre la storia di questo frate Daniele. E io mi sono un po' così incuriosito. Poi quando ho pubblicato Padre Pio Pane per l'uomo, Padre Pio come seme marcito, Padre Pio Pane per l'uomo, in questo testo vi è, domina, la figura di Padre Pio, con poi dei testimoni, perché ero partito dall'idea appunto di Sant'Omaso. La santità contagia sempre. Anche il male di per sé contagia. Il male può contagiare. Ma la santità contagia in una maniera ancora più forte, cioè è più bello innamorarti di un santo, anziché di un delinquente, insomma, anche se questo può capitare. E io mi innamorai e capii che quella figura di frate Daniele non viveva, come giustamente ha detto il vicepostulatore, il nostro presidente, Farmeriano De Vito, non viveva dell'ombra di Padre Pio o all'ombra di Padre Pio. Cioè Padre Pio non ha oscurato, ma ha potenziato, non solo in frate Daniele, ma anche in altri. Per esempio, me ne viene un'altra figura che già è in corso la fase romana della causa di canonizzazione e che più spesso te ne sei occupato, la serva di Dio, Madre Maria Gargani. Beh, queste figure, come la Madre Maria Gargani, come Frate Daniele Natale, ma tanti altri, che mano a mano, secondo me, verranno e dovranno emergere, non hanno vissuto all'ombra di Padre Pio, ma hanno vissuto, direi, alla luce di Padre Pio. Cioè Padre Pio, attraverso la sua santità, non faceva altro che mettere in rilievo la luce e la santità delle altre persone. Perché questo è il compito di un santo, non rimandare a se stesso, ma rimandare a Cristo e Cristo potenzia sempre i semi di santità. E allora ho detto, ma questo è un seme di santità. E l'ho inserito tra, diciamo, questi semi di santità ordinaria, ripeto, non necessariamente devono essere santi riconosciuti, ma una santità ordinaria, di cui, ripeto, già parlava nel nuovo millennio, e neunte, no, terzio millennio adveniente, Giovanni Paolo II, beato Giovanni Paolo II. Quando hai cominciato a leggere di Fra Daniele, allora, qual era il tuo pensiero prima e poi qual è anche, se le tue aspettative sono state tutte soddisfatte, era quello che ti aspettavi, ecco, chi era per te questo frate? Ma, ti dirò, E chi è oggi? Sì, quando ho iniziato, ho iniziato, come sempre, no, sull'onda dell'entusiasmo, perché sentivo paradistofrate, quando uno ti trasmette, come padre Colacelli, mi ha trasmesso questa, quindi, ero più che altro motivato dall'entusiasmo e dalla curiosità, capire un po', anche perché ho avuto sempre questo pallino di studiare questa diffusione della santità, e mi ero, così, ritrovato, ed anzi, leggeva anche degli episodi un po' particolari, di presunte visione, di presunte grazie ricevute per sua intercessione, ma queste sono cose che poi, ecco, piano piano, avendo anche un po' poi studiato l'iter processuale, avendo studiato anche un po' la teologia della santità, e, avendo studiato anche come occorre muoversi, beh, ho imparato ad essere un po' distaccato, perché il distacco è importante per far emergere veramente la virtù, l'erocità delle virtù vissute nelle persone, e la santità di per sé non è la perfezione nell'uomo, perché la perfezione nell'uomo è un'aspirazione, ma poi è Dio che ti sa perfezionare, è solo Lui nei tempi, nei modi, e nei luoghi dove vuole, la santità non presuppone l'assenza di sbagli, l'assenza di peccato, oppure il carattere, la santità è semplicemente l'opera di Dio nella persona, e questa persona ci mette la sua disponibilità, ma questa santità va nella natura della persona, cioè io divento santo, non io, le persone diventano santo con la loro natura, con il loro carattere, con i loro difetti, quindi questo mi ha portato ad essere staccato, e questo distacco razionale, ecco, fammelo dire così, mi ha portato a riconoscere ancora in Lui una testimonianza vera di che cosa? Di una semplicità che ti può far diventare santo, di una vita ordinaria che ti può far diventare santo, no? E Lui ha vissuto come tanti frati, piano piano poi è emerso perché? Perché doveva rendere testimonianza ad un uomo che a sua volta era testimone dell'Altissimo, cioè ha dovuto rendere testimonianza, girava, della sua esperienza di santità, della sua esperienza di cammino di santità, di perfezione, guidata da Pane Pio, da Pietro il Cino, Lui ne parlava non perché solo lo aveva conosciuto, Lui ne parlava perché era stato guidato da Lui, perché Padre Pio lo ha svezzato nel cammino di santità e quindi ne parlava come testimone, non solo come soltanto colui che lo ha conosciuto, molti dicono ho conosciuto Padre Pio, molti dicono ma la conoscenza di un santo, di Padre Pio, ma anche la conoscenza mia e tua è diversa da una conoscenza semplicemente fisica oppure di luogo perché abbiamo vissuto alcuni anni insieme, io posso vivere anche insieme tanti anni a delle persone ma non conoscerle, Fra Daniele no, non solo ha vissuto alcuni periodi con Padre Pio da Pietro il Cino ma lo ha conosciuto proprio nel senso biblico nel senso che Padre Pio come suo direttore spirituale, come suo maestro, come sua guida gli è entrato proprio nel cuore, gli ha modellato il cuore secondo il cuore di Cristo. Ecco, questo è fondamentale, quindi una conoscenza vera, diretta, direi una conoscenza biblicamente intesa perché anche dalla scrittura che cosa vuol dire conoscere Dio? Conoscere i suoi comandamenti? Conoscere la sua storia di salvezza? Conoscere Dio dice il Talmud vuol dire lasciarsi possedere da un Dio che già ti ha posseduto, lasciarti abitare da un Dio che già ti abita in sé e poi i pari della Chiesa diranno attenzione noi non possiamo dire che noi abbiamo Dio nel cuore ma è Dio che tiene nel nostro cuore e io penso che la storia di ogni santo e anche la storia tra questo padre e questo figlio tra questi due confratelli è stata proprio questa conoscenza mirata non a una conoscenza umana ma alla conoscenza divina ecco qui poi l'opera dello Spirito Santo le operazioni dello Spirito Santo come le chiamava padre Pio quando faceva direzione spirituale è proprio questo perché lui mirava non a far diciamo non mirava a far sì che fosse un discepolo di padre Pio no no padre Pio mirava a che il cuore di padre Daniele conoscesse sempre di più Dio proprio parlando intanto stiamo vedendo delle foto che gentilmente riprendiamo sul sito amici fradaniele punto it proprio parlando di padre Pio e fradaniele tu come ben sai abbiamo in archivio una serie di filmati dove un amico di teleradio padre Pio Domenico Borrelli ha messo a disposizione la nostra emittente dove è lo stesso fradaniele che si racconta lui non ci ha ha spiegato all'epoca però parla alla telecamera come se in questo istante parlasse a noi ovvero racconta dei fatti degli aneddoti che forse questo registrati nel settembre del 1992 quindi video amatoriale anche l'audio un po' gracchia ma potete ascoltarlo con tanta c'è un'indicazione dalla regia e proprio per questo vogliamo vedere un piccolo filmato dedicato a padre Pio e fradaniele proprio sul lui usa questa espressione il bacio del costato lui un giorno vuole fare una richiesta a padre Pio questo è un episodio che è anche scritto in questo da Gennaro Preziuso da Gennaro Preziuso forse sicuramente tu lo conosci meglio questo episodio no è un episodio che ricordo piuttosto bene perché mi colpì e che Gennaro ha saputo Preziuso il nostro oltre che amico è stato per anni collaboratore di voce di padre Pio ma anche collaboratore per la causa di padre Pio e mi ha colpito particolarmente perché questo discorso del bacio è un discorso molto mistico mistico però mi piace che lo dica lui perché semmai noi con le nostre parole andiamo a togliere la bellezza perché se io devo raccontare qualcosa che ho letto e che non ho vissuto lo dirò senz'altro in maniera diversa da come lo possa dire fra Daniele allora ascoltiamolo in questo passaggio dove lui chiede a padre Pio padre Pio gli dice chiedimi cosa vuoi chiedimi quello che vuoi e fra Daniele ecco comincia proprio così anche perché io questo è come che voglio sentire da lui perché io l'ho letto ma non l'ho visto non l'ho mai non l'ho sentito dalla sua cosa ci sono tantissimi aneddoti trascritti da da Gennaro che puoi ritrovare non so se ti può essere anche utile questo lavoro che possiamo fare insieme donandoti questi video dove è lui che si racconta ascoltiamo una cosa meravigliosa quando padre Pio mi venne a trovare di notte prendo nella stanza e mi e e mi disse dice beh chiedimi quello che vuoi ma io però gli ho detto e che le devo chiedere una volta l'ho chiesto di stare sempre unito non soltanto adesso ma anche dopo e lui mi rispose questo te lo questo te lo ho detto io chiedimi qualche altra cosa e gli ho detto quando c'è questo c'è tutto per me padre e vabbè invece quella notte ecco quando è venuto pensavo perché le chiedo l'altra volta mi ha risposto così allora dico padre quando lui vorrei baciare sul cuore mi dice eh baciami ah padre così lo baciate cindirai cindirai di volta io vorrei proprio baciarvi sul cuore hai detto ho capito sei proprio Daniele l'uomo di desideri che fa si sbattona proprio voglio far venire per lui poi dopo si tira su la maglietta e poi dopo e si si mise così con un dito mantenevo quella di sotto non so si era la puntata o era una fascia una fascia di cui stava sulla che metteva le pezzi le pezze sul cuore sanguinante e poi dopo l'altra la maglietta si vede sopra e io nel vedere nel vedere proprio qui è proprio una ferita così lunga come questo dito mio è aperta e ho detto eh chi ha più coraggio adesso di baciare se non che padre Pio mi ha preso con la testa e mi portò mi portò sul cuore allora io mi si è baciare bacio 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 con tanta ansietà perché non so cosa sentiva proprio nell'interno sentiva una cosa che non si può descrivere proprio di meraviglioso di di grazia di profumo tanto che sentiva poi gorgogliare un gorgoglia di sangue di sangue come quando non so mi diceva una fontanella e scende appena appena l'acqua si sente che scende l'acqua così io sentiva nel suo cuore questo e baciavo 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 dopo un po' di tempo ecco mi stacco per dire le grazie e mentre lo guardavo perché era un po' più alto di me lo guardavo dicevo grazie padre quanto vedo che non era padre Pio solo era Gesù in padre Pio e padre Pio in Gesù che formavano una figura sola ma ci stavano le sembiate dell'uno e le sembiate dell'altro il padre Pio più trasparente più meraviglioso è il volto di Gesù con i capelli alla mazzarena che era una meraviglia e io ero incantato a guardarle poi dopo dico da me stessa ecco perché ho guardato di nuovo con l'occhio così e dico e come faccio più a baciarlo avesse Gesù qui non sono degno invece di nuovo presso con la testa mi portò là e là sul cuore io bacio bacio questa volta baciavo e baciavo con tanto ardore con tanto amore nel pensare che era che era il costato di Gesù il costato del nostro amato Padre Pio aperto di cui emanava tutto questo questo profumo e questa grazia che stava in Lui e che era la presenza di Dio in Lui la presenza di Gesù perché Padre Pio era tutto di Gesù e Gesù viveva in Padre Pio questo è di fede che anche per noi soltanto che noi investiamo a quella altezza a quella purificazione bella di poter ospitare veramente il Cristo Dio il Cristo grazia come vivere in Padre Pio la grandezza della grazia anche quella dei Santi dunque poi dopo un po' di tempo ecco mi sono distaccato piano piano perché perché mi sono distaccato piano 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 si è raffreddato si è raffreddato in me quell'ansia e si è raffreddata che che non sentiva più non sentire più quella presenza allora ecco mi sono distaccato e ho guardato non ho visto più Gesù in Padre Pio ma Padre Pio che mi disse beh sei contento adesso mi dico Padre solo quel Gesù che vive in Te può ricompensarvi di questa grande e meravigliosa grazia che mi avete concesso questa notte perché era di notte era di notte di nottotempo ed erano mi ricordo anche anche l'orario perché avevo visto l'orologio erano le 3 meno 10 del mattino ebbè beh ti posso negare l'emozione perché mi colpiva la prima cosa è questa quell'immagine diceva all'inizio dalla lettura che feci dell'episodio avevo indirizzato subito che si trattava di un'esperienza cosiddetta mistica no? ma di di una mistica che rimanda al concetto della vocazione di ogni uomo che è di ogni cristiano che è la santità bello quando dice che lui dopo aver baciato questo questa ferita questa piaga del costato vede Gesù in Padre Pio e Padre Pio in Gesù e questa è la santità il Signore che ti abita che tu lo lasci abitare ma già ti possiede in sé è tu che rimandi a Lui questo è il Santo il Santo non è colui che rinvia a se stesso come ha detto ma che rimanda sempre a Lui ed è bello anche poi questo bacio perché il bacio ha qualcosa in comune con l'adorazione adorare viene dal greco che vuol dire quasi baciare quindi Padre Pio perché gli ha concesso questo? proprio in quel cammino di santità ha consentito secondo me a Freddoniere di perché gli uomini vanno incoraggiati nel cammino di santità non solo di incoraggiarlo ma gli ha fatto vivere questa esperienza non per suo perché se ciò è avvenuto perché è il Signore che l'ha voluto gli ha fatto vivere proprio questa esperienza direi della intimità con il Signore con Cristo perché Padre Pio non voleva che fra Daniele e lo dice lui alla fine dice solo il Signore potrà ricompensarmi di tutto quello che ecco la finalità del Santo che non rinvia a se stesso Padre Pio non voleva che Freddoniere riconoscesse lui veramente la santità veramente questo mistero che lui stesso diceva di se stesso Padre Pio ma che riconoscesse veramente la presenza di Dio in lui quindi il bacio è quasi ecco mi verrebbe da fare uno dei miei paragoni ma evito ma è quella intimità cioè intimità in cui tu ritrovi il Signore e l'altro aspetto questo parla Stofrante che non ha studiato mai un rigo di teologia si è fermato alle scuole elementari si si è guarda ha detto molto più di noi che abbiamo studiato teologia semmai gli altri teologi mi perdonino ma ha dato un concetto della intimità di Dio un concetto della santità che semmai i teologi hanno scritto in milioni di pagine lui l'ha detto in 30 secondi perché ha vissuto e perché padre mi ha rivelato queste cose perché io le potessi rivelare ai semplici ai piccoli come dice Gesù nel Vangelo e essere semplice essere piccolo non vuol dire non studiare ma vuol dire anche studiare tanti santi sono grandi Newman per esempio Beato Newman è un grande teologo filosofo di quel livello Beato Duntuskoto ma altri sono molti di studio ma si sono fatti piccoli si sono fatti umili questo è il segreto che dovremmo un po' riscoprire noi e che ci viene anche da questa esperienza e poi è stato meglio che l'ha detto lui che io ecco parlando di segrete parlando anche di particolarità siamo verso la conclusione qual è la caratteristica che ti ha colpito di più rileggendo anche ascoltando i testimoni anche ascoltando incrociando volti o racconti cosa ti ha colpito di più di Fra Daniele beh io dico due cose la prima è quello che è un po' recepito dalla gente è vero la gente molte volte la grazia è il prosunto miracolo queste sono cose umane qualcuno mi ha parlato anche invece di una vicinanza spirituale umana di Fra Daniele molto forte molti è vero rivedevano in lui anche quasi il prolungamento di Padre Pio da Pitocino ed è giusto che sia così perché un santo deve prolungare con la sua santità un altro santo il Signore si può servire di Fra Daniele per avvicinare convertire e cambiare delle persone a cui semmai Padre Pio non è potuto arrivare per motivi di tempo per motivi di luogo vabbè Padre Pio non è già motivi di luogo perché il fenomeno della Bibbia l'occasione non lo conosciamo però mica con tutti aveva questa ecco e quindi però quello che mi ha io questo lo dico sempre si dice Padre Pio perché è diventato santo perché fai miracoli qualcuno risponde ma il miracolo non li fa Padre Pio i miracoli li fa il Padre Eterno attraverso di lui ha fatto ma no Padre Pio è diventato santo perché ha vissuto pienamente la sua vocazione cristiana religiosa e sacerdotale e poi si è fidato molto di Dio e ciò che lo ha santificato è stata l'obbedienza è l'obbedienza dura non quella quando mi conviene no l'obbedienza dura e di fra Daniele mi ha colpito proprio questa sua semplicità mi ha colpito questo suo essere innamorato di Padre Pio ed è vero però quando tu ti innamori di una persona ti innamori di quella persona ma alla fine tu ti innamori dell'amore e quindi ogni santo ogni persona che si innamora di una persona che ha il sapore della santità ha il profumo della santità alla fine si si innamora di quella persona attraverso cui il Signore agisce ma si innamora poi dell'amore vero dell'unica santità e mi ha colpito molto la sua semplicità la sua semplicità un'altra cosa potrei dire so che in un periodo della sua vita anche convinto da altri che gli dicevano ma perché andava in giro a portare testimonianze ma questo non gli manca niente ma perché non ti fai sacerdote meno male che non è diventato sacerdote non perché essere dico meno male calato nella sua esistenza perché il Signore non aveva il progetto della santità nel sacerdozio vissuto in Fra Daniele come lo è stato per Padre Pio aveva invece un altro progetto secondo me uno della conversione personale di Fra Daniele uno perché io non posso trasmettere inviti alla santità se non vivo perché l'invito alla santità non è un invito un convegno un invito no è qualcosa che io devo vivere ecco perché ho avuto quella forte esperienza di spiritualità guidata da Padre Pio che come sacerdote come maestro ha saputo guidare questo suo figlio spirituale ma anche questo suo confratello e quindi questo per dirci ce ne sono tanti ce ne sono tanti soprattutto poi nella grande famiglia francescana e nella grande famiglia dei cappuccini vi sono tanti fratelli non sacerdoti diventati santi San Felice da Candalice era continuamente consultato dai grandi teologi dalle grandi personalità del tempo e quello non aveva fatto forse nemmeno la quinta elementare come l'ha fatto fra fra Daniele cioè la semplicità e questa è bella una santità che avviene nella semplicità tu puoi stare in un convento e ti puoi santificare puoi stare e un paragone dicevo la curia romana ma adesso lo perdono era un paragone nel senso che puoi stare in posti molto più rinomati e ti puoi dannare cioè è il signore che sceglie però io sono convinto che e amo soprattutto i santi semplici i santi molto molto semplici adesso per esempio mi sto occupando di una causa tutta da inventare però bella del primo catechista primo catechista del Burkina Faso Alfred Simon Ghizerbo su voce di Paripio di novembre c'è un articolo come qualche mese fa c'è stato anche un articolo su fra Daniele perché mi sto occupando un po' di queste figure un uomo con una vita piuttosto difficile era schiavo non era cristiano è diventato cristiano perché ha liberato ha incontrato i padri i cosiddetti padri bianchi e poi dopo che è diventato cristiano girava i villaggi con l'aiuto dei missionari ha fatto crescere la chiesa in Burkina Faso un uomo semplice ha avuto diversi figli io ho conosciuto anche alcuni nipoti quando sono stato in Burkina Faso e ha avuto due matrimoni perché la prima moglie poi morì e lui poi si è risposato ma così una vita semplice lì nell'Africa semplice così per fare a Daniele la semplicità e io credo ecco perché ho detto meno male che non è diventato sacerdote non perché diventato sacerdote forse ma perché il Signore gli ha tracciato quella strada quel cammino di santità se era sacerdote doveva fare altro doveva pensare ad altro doveva avere ma poi i progetti di Dio sono i progetti di Dio io posso dire a uno fatti sacerdote ma se quello sacerdote il Signore non l'ha chiamato ma l'ha chiamata alla vita fraterna alla vita da frate basta infatti tra l'altro nel libro Gennaro lo spiega non era un suo desiderio ma furono in tanti che gli dicevano eh sì perché tutto sommato la teologia ce l'aveva ma non perché l'aveva studiata era una teologia che nasceva secondo me dalla sapienza del cuore e dalla sapienza di un cuore che lasciava sì spazio a Dio ecco perché quindi aveva questa 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 diciamo sapienza che il Signore gli aveva data aveva l'esperienza con un santo fare il piede per il cino aveva comunque il suo cammino di formazione e si sta santificando si è santificato così bene grazie Don Francesco grazie a te posso farti un augurio dimmi e tu parli di Fra Daniele ma fatti sanno certo siamo tutti chiamati alla santità e tu ma pure tu fatti sanno comunque anche i nostri noi noi ti ringraziamo dato che sei qui lo facciamo anche condividendo questa bella questa tua presenza qui soprattutto perché ti diciamo grazie per quello che fai quotidianamente con Teleradio Padre Pio con il tuo programma lo hai fatto ormai ormai sono tantissimi anni dall'inizio mi sto facendo vecchio che collabori con Teleradio Padre Pio e poi anche con la rivista Voce di Padre Pio noi ti ringraziamo e sappiamo che tanti telespettatori ti vogliono bene ma mi vogliono troppo bene tant'è che sono costretto quando volte e volte viaggio sono fuori per strada dico tu sei Don Francesca ma dico no no non sono io quello è mio fratello gemello qualcuno mi guarda e dice ah sì qualcuno ci crede qualche altro può dire no non sei tu un bambino sai che cosa ha detto ha detto tu sei Don Francesco stavo con la mamma dico no non sono io quello è mio fratello gemello no sai perché tu sei brutto in televisione e sei brutto pure qui mi ha detto il bambino sei tu Don Francesco che io mi sono messo a ridere la voce della verità i bambini i bambini poi ti smontano io sono rimasto lì ma che hai detto no no signore ha detto la verità Anzio lo saluto si chiama Michele ed è di Roma ok salutiamo Michele tutti i bambini che stanno guardando e che ci guardano le famiglie le famiglie che guardano Teleradio Parepio con tanto affetto grazie ancora noi volevamo concludere proprio con un invito che fa fra Daniele e Natale si parlava di Rosario si parlava di Madonna e si parlava della grande potenza che ha il Rosario come preghiera lui parla alla telecamera come se ci fosse dall'altro lato chissà quanta gente e lui nel 92 non sapeva che quest'oggi così come lo stiamo facendo in tanti altri momenti delle nostre settimane e comandiamo in onda questi piccoli filmati dove lui fa dei veri e propri appelli ti frego un po' col mestiere sì proprio partendo da questo molti testimoni contattati ma anche gente che conosce dice ma allora cosa dobbiamo fare perché fra Daniele arriva subito e deve essere santo di me tutti i tempi di Dio lasciamoli a Dio i tempi della Chiesa sono della Chiesa e la Chiesa che deve definire il tutto noi possiamo fare solo una cosa ho detto a loro io ho detto dite a nome Maria ogni giorno in questo caso invece fra Daniele ci dice di recitare almeno un rosario al giorno quindi tutti gli amici di fra Daniele e quelli che se ne innamoreranno piano piano cerchiamo di recitare ogni giorno un rosario grazie Don Francesco scusa se ti ho rubato no no hai fatto benissimo vediamo mi rotondo in un'altra stanzetta quella stanzetta che sta dietro dietro al quadro della Madonna e sento sento una voce prima mi sveglio con una stanza tutta profumata inebriata proprio perché inebriava l'inebriava anima e corpo poi dopo sento una voce dentro che mi dice figlio mio da domani dimmi il rosario ma come faccio a dire il rosario se non ci riesco più piangendolo diceva non ci riesco più come faccio a dire il rosario mi sembrava mi sembrava un disprezzato un allontanato una che non vuole essere una Madonna che non vuole essere più onorata da me e dice ti aiuterò io e ricordatevi questo e con il rosario chiediamo qualsiasi grazia che vuoi che lo otterrai ti aiuterò io lo diremo insieme ecco quella mattina vado come entro e vado per la Santa Messa sono andato un po' prima figuratevi prima ancora che i padri cominciassero l'ufficio ecco che come entro in chiesa dal coro nel coro ecco vedi quel bel quadro della Madonna quella Madonna con quegli occhi penetranti che mi guardava che entravano nell'intimo e ho detto ma guarda un po' quanto è bello non ho mai vista così bella è così vicina la vede più vicina è più bella poi ho sentito subito nell'intimo di dire il rosario io metto la mano nella pettorina prendo il santo rosario mi faccio mi faccio la croce e comincio il rosario non avete idee perché non lo so descrivere che cosa era quella di Maria vivevo la Madonna mi face partecipe mi face partecipe di quello che lei sentì all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele poi ancora mi fece capire e mi diede tanta armonia spirituale che ogni Ave Maria per me era un tiletto spirituale è tutto che mi sentivo un innamorato mi sentivo innamorato di tale madre innamorato del santo rosario innamorato della chiesa del corpo mistico di cui sentivo che nell'Ave Maria raccoglieva anche e mi univo con tutta la chiesa ecco l'Ave Maria non ci sono più riuscito a dirlo così perché la Madonna mi disse lo diremo insieme ti aiuterei io e lo diremo insieme immaginate se uno di noi ancora succedesse questo proprio materialmente parlando perché spiritualmente siamo già uniti fusi con la Madonna ogni Ave Maria che cos'era per me la prima Corona la seconda Corona la terza Corona ecco che arriva la Salve Regina e la durante la Salve Regina mi ricordo mi ricordo della della notte che la Madonna mi aveva detto lo diremo insieme ti aiuterò io ho detto questo affinché vi possiate anche voi innamorare sempre più della Madonna di dire il Rosario perché il Rosario è la Madonna che lo vuole e la Madonna se l'ha detta a me lo dice anche a voi col Rosario chiedete ma con le stesse grazie che lo otterrete l'ha detta a me e tramite me lo dice anche a voi a uno di innamorarvi di dire Santo Rosario e di chiedere con dolcezza di figli di figli proprio e con la sicurezza che la Madonna concede perché l'ha detto lei